Aspetta eh Prima attacca questo qua Non devi usare la prima volta Ah vedi? Guardando come si muove Ah treme, stai tranquillo, non treme, stai tranquillo Ma è capace che si avvalga Attacca a treme il pulatore Eccolo Fai 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 Quisto ecco Metrulla Ecco Ecco E ma la porca puttana, lo cazzo sta Dopo che sta Le mano sta Putiamo la bomba Global Aspetta Global Global Fai tutto Invio Genso Invio Invio Simo La figaccia vostra Simo si agita Io ho eserito i ginesi Raga ma io posso fare qualcosa Eh fai quello che vuoi Poi prendere il carro per il rimorchio Se non sai cosa fare Chi rimorchio? Rimorchio Simo Gli chiedi di uscire Gli chiedi di uscire Gli chiedi di uscire Io per le porte gli muo Gli chiedi di uscire Gli chiedi di uscire Giappa Vi devo ricordare che il trattore di Samo Il class quello grippatissimo Quando facevi retromarci si accendevano le luci davanti Gli chiedi di uscire Gli chiedi di uscire Gli chiedi di uscire Mi capita nella vita qualcosa che devo fare contro di te So tutto Tutto tutti Si può sbricattarti in qualsiasi modo Vai sentiamo come mi puoi ricattare Dai No sentiamo voglio saperlo Vediamo se c'è qualche modo in cui puoi ricattarmi veramente No 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 Non c'è Non c'è nessun modo però Nel senso stavo potrebbe essere la cosa più grave che faresti Purttana miseria Perttana Sei che non lo so Che dio dei furmini Ma come faccio? Eh bestemmi 3 Dove ho scaricato i pallet Dentro Dentro sul ponte No Uno beh L'altro dentro la pietra Quindi tipo 14 anni non lo so E quindi tipo non è possibile che abbia cominciato un anno Samu ha capito tutto della vita proprio Ha capito tutto il discorso L'ha capito il vuole No non hai capito un cazzo Ma mi dispi C'è proprio Hai cannato Ma stavi ascoltando Hai cannato in piena Samu Non ho capito niente Lo mi ha capito anche io non ho capito niente Dai spiegatelo Prendetemi partecipi Testa volta Ma ancora ricominciamo da capo Ricominciamo da capo Ricominciamo da capo Vabbè che ci stavamo C'è se abbiamo già parlato un anno fa E' sta cosa che fra C'è No Può anche essere false Non c'è verso Non c'è verso Deve una persona in particolare in Danny Non c'è verso Non c'è verso Non c'è verso Non c'è verso E' un po' finito di spiegare adesso Si ma non c'è niente che per cui dovrebbe C'è dovrebbe provocare timore Ma che cazzo dici Tutte cose Che c'è stare male Eh ma infatti non c'è nessuno che diceva che era male o non male Eh per quale motivo potresti sputtanare C'è non ho capito No 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 Eh dai Ma non ho potuto spiegare Se non ho spiegato Ma mi ha già spiegato tre quattro volte Il problema se tu che lo capisci Vedete Che danno potrebbe recarti a te Mi sono c'è un danno Non c'è un danno Non c'è un danno Ah e pensavo dice Comunque con quale cosa può essere ricattarmi E' stata rimasta quella del prima Eh Beh pensavo che verrà dei riferiti a Sto foto mi piace strada tanto Quale Eh Distacco tipo quella che c'è lei Davanti la piscina Ah Sì quel tipo sullo stendicino Stendicino Sello sdraio sì Sello stendipati Sì 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 0 5 9 1 6 3 0 6 9 1 6 Ma che cazzo dici 3 0 Allora scrivi E' che prima tipo sto premuto Eh e tu stai continui a parlare Provo sto premuto R Po sto premuto Y Non trovo la chat 30 59 166 Ora me lo ricordo anch'io Meno 30 59 166 ci voleva tanto Adesso lo scrivi sul numero Ovviamente non mi scrivi E' che sto ritardando Tu stai Qua cazzo Gli sta il nome Non lo vedi Quagli usite però Che taglia No No Se ho detto che li usite mi chiedi la taglia a me Ah Ah Si può ma ti servirà a zi ti servirà a prevedere Ah Ah Taglia a bocchia 15 Non so come si calcoli Taglia 15 Che due metri Da grego ma se lo tagli tu ma nevo che tagli Indecametri 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 14 14 15 15 21 22 22 22 23 23 d'allora giallo canarino verde scura il sito la terza che la parma si chiama greco e dentro c'è solo simo a per la facciamo testisti di un uomo mamma e qui qui arriva stranieri per cambiare la mappa come non se non è niente e questo è l'asfalto è una bichiera semmo non è convinto lui io non mi so mai buon erpice con i rulli sicuramente neanche io però non fare troppe domande perchè già per me è un rullo non è nerpice eh spero che funzioni dai rulli eh? vedi un po' perchè con badra drabbia non ci posso... perchè ci sarebbe ci sarebbe un po' vedi un po' ora la legna che vola però nooo ho rovinato tutto guarda ho fatto un buco enorme noo ho rovinato tutto una macchina e beh pure tu c'hai 31 anni ma mica t'ancora cambiato tua madre ehm va trappiando il culo vabbè non è tantissimi meno un'annia chi ci faccio 900mg di numeri 900mg di numeri 900mg di numeri 900mg di numeri cosa cambia una macchina di due giorni io credo di avere seri problemi si si io da piccolo avevo il pallino che volevo fare il detective si si e ora che cazzo stai facendo allora un elettricista un elettricista voi quando eravate piccoli qual era tipo il vostro lavoro quali eravate cosa volevo fare da grande tu rego il pilota il pilota marco di ritorno il pilota per marci indietro tutto il terzo ha fatto ma tu quel pilota mi ha salto in grangea nello che è stato tu ma tu dove cazzo stai in quale cazzo di farmese andato ma che problemi già chi non è casa tua questa che cazzo ci piace c'è su quattro del turco di merda dimmelo si è turco vai via da qua che cazzo è sto posto attiva taglio balle che che rapa è si muove in vai anni attiva il posizionamento estero testo estero no e che si vede ma ecco è questa monta ma io lo hai non lo so perchè l'ho già venduti la prova è sembrano tipo una scarica poco poco più come raccolta la mia no la soglia no è raccolta no è la soglia camille andrò vai a vedere guarda il video nel video non si vede come posso vederlo è la soglia ciao guarda i gambi stupido ci è venduta la soglia sbagliata ma io l'ho venduta minchia l'ho venduta no bestemmia ma perchè ho fatto soglia infatti quando stavo terbiano ma perchè hanno fatto soglia ma ero convinto di aver fatto colza cioè ma stratanto cioè infatti ho detto faccio colza e poi tu paraculo ieri non mi hai detto niente quando ho detto io ho seminato la colza c'è in grande richiesta ti ricordi che l'ho detto? ahhh ero già convinto si io ce l'ho anche seminata ero già convinto da ieri di aver seminato colza e vabbè ma mica ce l'ho pensato cazzo che ne so io ma poi tu cazzo non vedi sul carro che puoi attire la soglia e vengere la colza dai cazzo ci si è fatto pure il video cazzo eh dopo andiamo a giocare su google e gli rubiamo le peca eh infatti ma ma cazzo non è fregando tipo è il palermo di mostra londana mi voglio anche rubare sì tipo c'hanno il john d il reclass ed è tutto tipo camion sul camion bizarque quindi bizarque bizarque camion sopra camion bizarque mi sapevo 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 ci ho fatto spendere una barca di soldi a quelli l'ama oh non t'ho visto mamma mia mi son preso malissimo non ci ho fatto caso poi ho sentito un rumore dietro ho visto tu che arrivavi a tutto eh se lo chiami va avanti è un cane via qua sto chattando grego sto chattando una persona mi ando a me fermo e chiazzo si che mi fa tutti gli auguri non devi chattare con i ragazzi tanto non te voglio giusto questo te l'appoggio allora e poi te l'appoggio anche la ragazza con queste chattate bene no 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 bello bello c'è stato un aereo che passa in Indonesia vada io tutto della vita ho visto gli aerei sopra la zunesia guarda guarda